e ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale siete compagni del vostro urgent allora oggi proviamo a fare insieme una partitella a call of duty warzone la modalità battle royale che hanno messo gratuita per tutti i ragazzi e proprio ieri hanno aggiunto anche la modalità singolo quindi potete anche giocare in singolo ovviamente contro altre squadre formate solo da una persona che secondo me è anche più divertente nel senso se giocate da soli vi conviene perché mentre prima restavate da soli nel senso che la gente quittava dopo essere morta e non aspettava neanche di essere rianimata e quindi però vi trovavate molto spesso contro squadre di tre avversari invece adesso siete proprio tutti uno verso solo comunque iniziamo subito a giocare ragazzi allora la mappa è questa verdansk non so se poi aggiungeranno anche altre mappe penso che sia una città immaginaria perché non esista non vorrei dire una stipulata ma penso proprio di sì e anzi mi ricorda un po questa mania per la russia un po pubg che ne dite anche a voi ricorda un po la stessa cosa vediamo poi un'altra cosa che volevo dirvi ragazzi che ho notato è che se siete nella prelobby come adesso e fate chilo uccidete gente eccetera beccate punti che ve li tiene poi quindi è importante anche insomma non cazzeggiare comunque se volete cazzeggiare ma fate anche chi se vi interessa perché potete tirare su dei punti di velare le armi anche in questo modo come non sto facendo io comunque volevo tirare un colpo di freccia questo qua e vabbè e ditemi un po se vi sta piacendo anche sta modalità non so se avete provato anche malloppo a me sta piacendo un sacco ragazzi mi piace più piace più world zone di malloppo sinceramente perché malloppo è troppo uccidi tutti troppo cioè è più per divertirsi secondo me guarda questo che c'è tutte le frecce piantate addosso ah ma sono io raga ma come mai c'è tutte le frecce piantate addosso mamma mia non lo so com'è mai sta roba allora un punto di lancio per il team questa parola hanno ancora cambiato ci sono solo io non c'è il team dove andiamo ragazzi io andrei tipo alla prigione dai va bene che è la mia zona preferita di solito è sempre pieno di gente wow però siccome adesso non è che l'aereo va in un'altra direzione credo che ci sia una situazione un po più tranquilla almeno lo spero comunque già vedo la un tipo dov'è perché non me lo tagga comunque vedo dei tipi che hanno avuto la mia stessa idea se quello almeno uno credo che vada l'anno forse no forse va dove c'è il porto non gli interessa poi ragazzi sto facendo un grande sforzo perché di solito di solito sono più concentrato almeno che cioè di solito non faccio il commentatore professione ma vabbè questa la facciamo per divertirci che sono le ultime parole famose adesso prendo il il fuoristrada questo qua non so se avete notato come inchioda questo fuoristrada vi faccio vedere comunque la prigione è anche fuori safe proprio per rompere le palle fino alla fine e io sto provando a registrare ragazzi anche con questo nuovo dispositivo che avevo fatto il video qualche giorno fa che si chiama oppage cioè la marca è l'hopage e il dispositivo si chiama hd pvr 60 pro che consente di registrare direttami ecco c'è già della gente dalla console wow con la pistoletta ragazzi no però che cazzo vabbè una kill abbiamo fatta ragazzi ha giusto comunque adesso diciamo non si può più essere rianimati quindi quando vi buttano a terra giustamente siete morti eh non ce l'ho pensata sta roba ci dobbiamo far valere nel gulag ragazzi se no abbiamo già chiuso se no sarà un video molto breve sono io il prossimo mamma mia il gulag va a culo ragazzi a volte a volte funziona a volte c'è della gente che ti spunta da dietro non si sa come poi non so se sapete che potete tirare i sassolini qua per rompere le scatole ascolta bene cosa mi ha dato eeeh questo fucile è buono è buono tocca a te soldato occupati di quello strutto yeah l'ho preso da dietro bella è andata anche un po di culo perché il tipo è venuto di lì c'è c'era anche la parete si vede che il pompa lì è passato ha sfondato tutto una roba quindi adesso lasciamo perdere la prigione ragazzi e dove andiamo dove andiamo potremmo andare no lì dove c'è la fabbrica è un casino perché c'è un pieno di buchi da dove la gente campera malissimo potremmo andare all'aeroporto ma un po lontanino vabbè andiamo all'aeroporto ragazzi che è un altro dei luoghi che conosco abbastanza bene perché sono i miei luoghi preferiti voglio farmela un po in alto così tanto hanno già bombardamenti di tuara che figata gli aerei dei bombardamenti comunque mancano ancora 105 potevano fare una roba però nella modalità singola potevano metterci meno gente perché 150 giocatori in una modalità così secondo me sono un po troppi dovrebbero almeno mettere 100 magari cambieranno in futuro perché questa ragazzi è una beta è una beta quindi in teoria tutto può cambiare o quasi tutto insomma adesso silenzio ragazzi vediamo se riusciamo ecco qua terriamo qua wow sono cattivissimo con questa pistola ragazzi mamma mia fatemi mettere le piastre coi ci sono cosa c'è vero questo Grazie. Oppa, chi è che mi stava appuntando? Cazzo, dov'era sto qua? Ah, è qua. Ah, porca miseria! Vabbè, facciamone un'altra. Ci sarà per riscaldamento. Cosa ho sbloccato? Ah, è livello 77. Wow, pistoletta mi ha dato caricatore, vabbè. Ah, una bella skin della pistola. Mi fa piacere. Ah, andiamo avanti, facciamo un'altra, raga. Vediamo come va. Allora, devo tirare giù uno col veicolo. Devo fare questa sfida perché voglio fare la missione Fiume Conteso, ragazzi. Quindi vediamo un po' come va. Poi, adunque, il Battle Pass io non ce l'ho. E quindi mi dispiace. Prenderò solo le cose schifose che danno gratis. Mia, già si parte. Ciao. C'è qualcuno? Cioè, in teoria adesso, non so se mi sentono tutti, tutta la chat di gioco. Perché prima, di solito, quando sei col team ti sente il team. Ma adesso che non c'è il team, la chat, chi se l'ascolta, boh, non si vede, cioè, boh. Oh, il mitraglione mi ha dato per fare un po' di pratica. Mi piace, mi piace, mi piace. Sì. L'ha tirato giù? Adesso si fa sul serio, raga, via! Allora, buttiamoci stavolta. Potremmo provare ad andare, boh, tipo, all'Umber. Non mi ricordo cosa ci sia, vediamo. Ma non c'è niente all'Umber, vediamo. Ah, è la fabbrica. Vediamo se c'è l'altra... Eh no, aspetta. Sapete che potete mettere la visuale in terza persona, ma una volta che avete aperto il paracadute, però. Comunque vedo già due tizi che stanno andando lì a l'Umber. Anzi, tre. Però sono più in qua, no, sono più in là, no. Cambio di programma. Andiamo a Farmland, una fattoria. Andiamo... Andiamo a pascolare le capre. Allora, tagliamo perché altrimenti non arriviamo più. Qua c'è già gente. Qua c'è già gente. Oh, ho una cassetta. Guarda, c'è un pompa. Vabbè, la prendiamo. Sento il rumore. Sarà sulla... Ah, sul tetto. Ah, ah! Eh, sto pompa non perdona. Ah, 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 porca miseria. Allora, cosa mi ha lasciato qua? Ma non mi prendiamo, una mitraglietta. E anche silenzio di bomba, vai. C'entra gente? No. E invece sì. Nooo, non l'ho visto, dai. Che palle. Che cazzo. Vai, sto gulag. Su. Tiè, muori. Basta, mi hai rotto le palle. Raga, quanto fa Fight Club questo gulag, eh? Mamma mia. Sì, sì, voglio sfogarmi con quei bastardi. Sì, sì, voglio sfogarmi con quei bastardi. Sì, 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 sì. Sì, sì. Ascolta bene, soldato. Woo! Sì, l'incontro e torni in prima linea. Guadagnati la libertà, soldato. Wow, dove andiamo adesso? Porca salamona Allora, voglio un posto tranquillo, dove non ci sia gente L'aeroporto? No, l'abbiamo fatto prima, non mi piace Dov'è la safe? Ah, siamo dentro la safe Andiamo qua, tipo, non so, tipo, alla base militare Tanto c'è gente ovunque Ok, quella casa lì, che non mi piace Che andare nelle case isolati, ragazzi, vi dico, non è poi così sicuro Perché ci sono, proprio, sono il luogo Questa è la casa dei pompieri, cioè, sono il luogo dei camper, cioè La maschera Dai, ma non ci sono armi decenti, porca miseria Allora, c'è un contrattino Raggiungete il punto obbligato e mettete in sicurezza l'area C'è un coltello Quanto è lontano, sto contrattino Quanto è lontano, sto contrattino Lì, ho A me il P90 non piace, non mi piace il P90. E' il senso del tattico cardiaco, si, si, si. O poi mi dovete dire ragazzi perché c'è pieno di palloni in sto gioco, io non lo so. Facciamo la conquista, 63. Vai, vai, vai così. Beh, guarda che cazzo mi ha dato tutta della merda. Oh, 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 forse dobbiamo delle armi buone. Il FAL, che fucile è il FAL? E' buono, e' buono. Prendo questo. Oh, c'è gente. Ah! Arriva un lancio d'equipaggiamento! Gatti in arrivo! Spostamento della zona sicura! ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 Che che tirato sta molto. Grazie. Grazie. Vi ha finito? Oh, c'è il lancio di equipaggiamenti. Grazie. Grazie. Stai perdendo terreno. 24, ragazzi, concentrazione massima. Poi ce la camperiamo qua, adesso vado a farmi anche un riposino, raga, un gallettino. Eh, però ci sono delle piedate. Aspettiamo, vediamo dove si stringe. Qui ci muoviamo. Siamo sul bordo. Che culo. Oh, questo che sta arrivando da qua? Vediamo se viene qua. È una casetta. È una casetta in Canada. Papi, 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 papi. E' una cosa vecchia Il ragazzo è pieno di scricchioli 16 player Non arriva anche qualcuno adesso Sì c'è tutta quella parte sopra Qui siamo coperti in una posizione tattica Ci prepariamo a rush finale raga Ancora un botto di gente però Si sta allontanando Non viene nella casetta Perché? Non gli piace la casetta? Ma non se ne va Ma ce n'è anche un altro Questo però mi sa che O va a morire Ed eccolo Io sono dentro fuori Samma mia raga Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma ho comprato un po' di serie di punti raga, mamma mia che caga mi sta salendo la tensione allora, vai quanti ne manca? 4 fischiola stai perdendo terreno gatti in arrivo nuova zona sicura contrassegnata stai perdendo terreno area contrassegnata colpitemi qui, Stryker 3, ricevuto attacco in corso impatto effetto nullo gatti in arrivo zona scura riposizionata che siamo? ora o mai più? yeah vittoriana in singolo ragazzi la prima vittoria in singolo grande 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 bellissima partita bella raga wow felicissimo bella raga bella 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 partita bella partita allora ragazzi mi raccomando seguite il mio canale mettete un bel like al video se vi è piaciuto e noi ci becchiamo alla prossima ciao a tutti bella aaaag a fa a a a a a a a Grazie.